Stiamo andando verso la gola del Furlo, un'area interessata da fenomeni frenosi di crollo e anche interessata da un elevato rischio di esondazione fluviale. In quest'area, durante le ultime piogge che si sono avute, ci sono avuti fenomeni di esondazione per la presenza del vicino fiume Candigliano. Procedendo ancora più a monte, possiamo trovare la golina del Furlo che durante le piogge intense è stata occupata dal fiume creando dei fenomeni di allagamento che hanno interessato le abitazioni presenti vicino al fiume. Questo è oltre la gola del Furlo, vicino al ristorante Bira al Pozzo. Dietro di me è visibile l'area golenale del fiume Candigliano che durante l'ultima piena si è completamente allagata. L'acqua però ha anche superato la strada ed è arrivata ad interessare i terreni al di là della stessa. Passiamo al Sasso di Urbino. Questa è una zona interessata da elevato rischio frana per la presenza di numerose abitazioni. In caso di forti precipitazioni o di eventi meteorologici estremi come quelli che si verificano ultimamente potrebbero anche mostrare in determinate condizioni estreme dei movimenti più accelerati di quelli che si verificano in genere.